Caos e code interminabili al comando di polizia locale di via Idolongo per la pioggia di multe che in questi mesi stanno giungendo a migliaia di automobilisti che hanno commesso un'infrazione al codice della strada al semaforo tra via 25 luglio e il ponte di via dei fabbri. Questa volta oltre a contestare la presunta illegittimità di alcune sanzioni centinaia di automobilisti che hanno già pagato la multa si stanno recando al comando dei caschi bianchi metelliani per chiedere l'UMI sulla sanzione pervenuta per non aver comunicato entro i 60 giorni previsti dalla legge il nominativo del conducente che ha commesso l'infrazione per la sottrazione dei punti sulla patente. A fare il punto della situazione ai nostri microfoni l'assessore alla mobilità e alla polizia locale Germano Baldi. In effetti quando è arrivata a casa la raccomandata della multa al semaforo al legato c'era un modulo da compilare che è obbligo di legge in base all'articolo 126 del codice della strada che proprio per la questione punti bisogna comunicare quindi il proprietario dell'auto che è tenuto a comunicare entro 60 giorni deve comunicare chi era alla guida dell'auto perché o i due punti o i sei punti andavano torti dalla patente. Ed ecco che è successo che tanti cittadini molto probabilmente che non hanno letto il verbale e quant'altro hanno fatto passare questi famosi 60 giorni e quindi è arrivata a casa un'altra sanzione con un'altra contravvenzione. Questo me ne dispiace naturalmente. Quindi io colgo l'occasione adesso proprio perché ci sono ancora i termini per tanti cittadini di andare al comando e di dire chi era la guida dell'auto per poter togliere i punti dalla patente. Poi ci sono delle difficoltà proprio per il notevole afflusso di persone perché ci troviamo nel periodo di ferragosto ci sono poco personale amministrativo a disposizione quindi i giorni sono anche pochi messi sempre a disposizione in vario due giorni a settimana e quindi chiedo scusa io personalmente a nome dell'amministrazione per questo disagio però ripeto colgo l'occasione per comunicare al più presto al comando chi era la guida dell'auto.